Sono circa una settantina le imprese ittiche della provincia di Lucca e Massa Carrara che potranno beneficiare dei ristori stanziati dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest per le attività colpite dalle calamità dello scorso autunno. Gli aiuti potranno variare a seconda della stazza dai 1000 ai 2500 euro per ogni singola imbarcazione. Parola di Coldiretti Lucca che dopo aver collaborato alla stesura del bando annuncia per sabato 14 settembre un incontro alla Cittadella della Pesca di Viareggio per illustrare le modalità di presentazione delle domande. È rivolto a tutte le imprese che svolgono attività di pesca che sono presenti nella provincia di Massa Carrara, di Lucca e di Pisa e che quindi hanno subito danni in seguito a questi eventi alluvionali. In particolare sottolineiamo le imprese della Darsia di Viareggio che a causa di questi eventi alluvionali non sono costruite uscire per diversi mesi perché c'è stato come sappiamo l'insabbiamento del porto. Le domande potranno essere inviate telematicamente dal 10 settembre al 31 ottobre ma non tutti i pescatori via Reggini potranno essere risarciti. Purtroppo ancora una volta le cooperative di servizi, quindi Copave e Cittadella della Pesca sono state escluse da Ristori. Purtroppo come struttura non veniamo associate e riconosciute come impresa di pesca per cui anche questa volta siamo rimasti fuori anche se siamo quelle che poi alla fine sostengono il settore e la categoria. Il bando completo è a disposizione sul sito della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest ed è rivolto alle imprese individuate dal codice ATECO ISTAT 0311.